So, which is it? Can I happen? Parlare con i robot può sembrare divertente per Ursula von der Leyen, ma con l'intelligenza artificiale non si scherza. La Presidente della Commissione Europea a martedì ha visitato il Centro per l'Intelligenza Artificiale dell'Università Fiamminga di Bruxelles. Qui circa 200 persone lavorano a progetti finanziati in parte dall'Unione Europea. La sua visita precede la tanto attesa presentazione della strategia dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale. Qui ho potuto capire come l'intelligenza artificiale possa migliorare la vita quotidiana delle persone ed è stato affascinante vederlo. In generale la tecnologia è neutrale e dipende da noi cosa vogliamo farne. Dall'assistenza sanitaria ai trasporti l'intelligenza artificiale è cruciale per l'innovazione, ma presenta anche dei rischi per la privacy. L'Unione Europea vuole essere il primo posto al mondo a regolamentare questo settore per garantire il rispetto dell'etica, della trasparenza e della sicurezza. Le nuove regole avranno conseguenze per le grandi aziende tecnologiche. Non sorprende che il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg sia venuto qui a Bruxelles per incontrare i funzionari europei proprio prima dell'annuncio. Le norme europee come quelle sulla protezione della privacy hanno avuto un impatto ben al di fuori dei confini europei. Qualsiasi nuova legge sull'intelligenza artificiale potrebbe avere effetti simili.